Lei è stato condannato all'ergastolo nel 1927. Dopo 40 anni si sente riabilitato? Riabilitato? Dunque mi lasci pensare. A dire il vero io non so cosa significa questa parola. Beh, vuol dire essere pronto a rientrare nella società e contribuire. Lo so! Cosa significa per lei, figliolo? Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici. In modo che i giovani come lei possano indossare un vestito, la cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto? Sì, certo. Non passa un solo giorno senza che io non provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane e stupido ragazzo che ha commesso un crimine orribile. vorrei parlare con lui, vorrei cercare di farlo ragionare, spiegargli come stanno le cose. Ma non posso, quel ragazzo se n'è andato da tanto, tanto tempo e questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. E nessuno può farci niente. E nessuno può farci niente. Oppure. Grazie a tutti.